Cristiani uniti nell'amore. Inizia giovedì prossimo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il tradizionale incontro ecumenico si tiene quest'anno a Migliarina. L'appuntamento è a partire dalle 18 con un incontro preliminare nel cortile a fianco alla chiesa, poi alle 18 e 30 si terrà la liturgia ecumenica con due interventi, quello di Sandra Spada, pastora della chiesa evangelica Battista e del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. A centropagina si è spenta la voce di TLS. Trovate un ricordo tracciato da Egidio Banti di Enrico Colombo, uno dei volti e delle voci più note ed apprezzate di Tele Liguria Sud. A fondopagina religione e concorso docenti. Saranno circa un centinaio in diocesi i docenti di religione cattolica che nei prossimi mesi e nei prossimi anni entreranno di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Lo prevede l'intesa firmata nei giorni scorsi a Roma. Erano esattamente 20 anni che non si teneva un concorso per il passaggio in ruolo dei docenti di religione. A fianco il Costa ricorda Tartaglione. Il liceo classico Lorenzo Costa della Spezia ricorderà martedì mattina Francesco Tartaglione per molti anni docente di filosofia e storia scomparso nel 2015. E a fianco il Papa incontra un giovane e si interessa la città della Spezia. Si è recato in visita a Roma allo zio arcivescovo e ha avuto la possibilità anche di incontrare il Papa. L'incontro con Papa Francesco e Vimal Carlo Gabbiani collaboratore di Tele Liguria Sud. E poi le vetrate simbolo forte di una storia. Parliamo delle vetrate di Ercole e Apriliano che si trovano nella chiesa del Sacro Cuore in via 20 Settembre o almeno una è stata riposizionata. L'altra invece deve essere ancora restaurata. Un restauro al quale si può contribuire. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sul risalto spezzino del quotidiano cattolico a venire.